buonasera benvenuti a otto e mezzo buonasera bentornato paolo mieli editorialista del corriere della sera buonasera bentornato massimo giandini direttore di radio capital e buonasera bentornato marco travaglio direttore del fatto quotidiano avete sentito che oggi salvini conferma la sua presenza a verona al convegno mondiale delle famiglie che è stato organizzato tra le altre associazioni anche da organizzazioni omofobe e sessiste e quel raduno di verona di maio lo definisce la destra degli sfigati subito dopo la pubblicità marco travaglio salvini ha confermato la sua presenza a verona questo congresso mondiale delle famiglie che è organizzato anche da organizzazioni omofobe e sessiste quel raduno di maio lo ha definito la destra degli sfigati allora viene da dire che dopo tanti contrasti tecnico politici ora tra lega e cinque stelle c'è una divergenza culturale è una buona notizia sì è buona ma non è una notizia nel senso che sui diritti civili e sulla concezione dei rapporti di uomo donna e sulla concezione di famiglia di unione queste due forze politiche sono sempre state agli antipodi non dimentichiamoci che sindache come la appendino e in parte anche la raggi hanno riconosciuto e registrato nei rispettivi comuni figli di coppie omosessuali scavalcando addirittura a sinistra amministrazioni di sinistra mentre salvini rappresenta una vecchia destra che ha un suo bacino elettorale e che si ritrova in quel congresso di cui tu parlavi prima dove sì ci sono omofobi reazionari ma ci sono anche molte associazioni della destra cattolica che portano molti voti e che in questo momento col declino di forza italia che poi insomma soprattutto dopo le vicissitudini di berlusconi in quel mondo lì se lo era inimicato si riconosce sicuramente nella lega quindi è una è una mossa elettorale non credo che per la sua storia personale salvini sia un appassionato di famiglia tradizionale o di o di o di valori di questo genere credo che lo faccia perché molti votano per lui e perché spera che in questa grande confusione che regna sotto il cielo altri cattolici si facciano l'idea che lui rappresenta i valori cattolici è una questione di così essere più avere più appeal col voto cattolico massimo giannini e perché un convegno come questo che si terrà a fine marzo a verona scalda così tanto gli animi il sottosegretario dei cinque stelle spada foro ha detto per esempio che l'italia non metterà in discussione i diritti conquistati quindi ci sono sempre più persone che hanno bisogno di dire che i diritti sono in pericolo e che non vanno messi in discussione diritti acquisiti sì intanto c'è chiaramente una componente elettorale siamo in campagna elettorale per le elezioni europee quindi anche un evento come quel congresso che in altre situazioni in un'altra fase politica ancorché calato in un contesto nel quale queste due forze che governano hanno identità profondamente diverse non produrrebbe grandi dibattiti in questo momento invece catalizza l'attenzione perché appunto tra un po' si vota e quindi anche quel bacino elettorale tu dicevi i cattolici forse io allargherei un po' il tiro perché in questo momento quello che sta venendo in campo si vede con chiarezza è una forte aria di restaurazione ideologica di regressione culturale che è tutta improntata e questa è matrice salviniana all'insegna della repressione dell'identificazione della diversità come elemento da quantomeno condannare sul piano verbale e poi se possibile anche da modificare sotto il profilo normativo i segnali sono tanti parliamo dei diritti sociali pensiamo a quello che succede sul fronte dei migranti col decreto sicurezza parliamo dei diritti civili e anche qua la campagna della lega è lì da vedere c'è un disegno di legge pillon per esempio sul tema delle separazioni dei divorzi l'assegno di mantenimento c'è il tema del ministro fontana un ministro della famiglia ricordiamolo anche qui tu citavi prima spadafora attuale sottosegretario della presidenza del consiglio quella poltrona doveva essere di spadafora quando nasce il governo giallo verde il candidato a quella poltrona era un 5 stelle invece diventa un leghista fontana sappiamo che cosa ha in testa è quello che ha detto le coppie le famiglie gay non esistono bisogna rivedere la legge 194 insomma tutta questa è la legge sull'aborto tutta quest'aria poi precipita in iniziative concrete il volantino della lega di crotone sul ruolo del ruolo naturale della donna in famiglia persino queste sentenze sui femminicidi secondo me riflettono un clima culturale che è di forte ispirazione medievale mi spingo a dire in questo 5 stelle hanno un ruolo importante perché ha ragione marco in questo e lo dico rapidissimamente l'ultimo interessante sondaggio sul profilo politico del movimento 5 stelle dopo le elezioni del 4 di marzo è stato quello di piero luigi corbetta il mulino ebbene il profilo politico degli elettori 5 stelle sui diritti civili è più a sinistra della sinistra peccato che non si sentono parlare l'unico che continua a dominare il campo anche su questo è salvini però insomma adesso negli ultimi giorni nelle ultime ore anche il movimento 5 stelle paolo mieli sta prendendo posizione contro questo congresso mondiale delle famiglie a verona tant'è che lo stesso buffagni sottosegretario grillino ma gli affari regionali ma uomo molto influente giovane uomo molto influente ha detto che a verona andrà in scena il medioevo quindi chiaramente c'è una presa di distanze e non basta il fatto che il ministro della famiglia fontana abbia detto che hanno controllato le organizzazioni aderenti organizzatrici che hanno che interverranno a verona ma non c'è il pericolo di avere organizzazioni omofobe sessiste eccetera eccetera temo che il ministro si sbagli ma comunque quando di maio dice che è la destra degli sfigati che si riunisce a verona ha ragione non so se si possono definire sfigati ma credo il sottinteso della sua domanda se non è peggio che sfigati non se sono più o meno sfigati cioè se non c'è anche qualche segno di pericolo qualcosa che sia una destra pericolosa che sia una destra pericolosa discussione alcuni diritti acquisiti aspettiamo di vedere verona adesso non per cavarmela non ho una grande impressione non riesco neanche a capire da dove venga perché insomma per quello che risulta a me non siamo negli stati uniti dove questo popolo esiste davvero non non credo cioè non credo che esprima grandi settori dell'elettorato che ci sia una parte palpitante per aderire a quei valori mi sbaglierò però non mi sembra non li vedo non li incontro però qualcuno ritiene di coprire è una cosa che nell'arco politico c'è uno copre quella casella l'unica cosa mi sembra molto imprudente per salvini andare lì e portare il proprio volto prima lo ha anche confermato riconfermato però vedrà che questa cosa tornerà perché quando un leader che ha una vita libera aperta simpatica scansionata va in un posto dove si sostengono i valori rigidi la famiglia poi c'è qualcuno come lei che sei mesi dopo si ricordo dice ma scusi lei non era andato lì a sostenere che il matrimonio deve essere uno indissolubile che non bisogna mai insomma capite anche anche bellusconi insomma l'idea che in italia si possa fare tutto e che le contraddizioni non continuano io penso che una serie notevole di guai per l'immagine di bellusconi si è iniziata proprio quando lui iniziò a sostenere pubblicamente i valori che salvini andrà a sostenere a verona e poi qualche tempo dopo scoperto che si divertiva in modo diverso che in famiglia con figli e nipoti queste cose qua non contano politicamente ma sfregiano l'immagine pubblica di un uomo politico Marco Travaglio a proposito di destra oggi è finito nella bufera il presidente del parlamento europeo Tajani di Forza Italia perché lui ha detto che Mussolini ha fatto delle cose anche buone questa è una gaffo o è una strategia politica? Ricordiamo che Berlusconi lo ha fatto molto spesso in vista di elezioni quella di ritirare fuori Mussolini c'è evidentemente anche lì un po' di voti da raccogliere? Io credo che porti più voti andare al congresso di Verona del tradizionalismo cattolico che poi è un tema che ha sempre diviso tutte le forze politiche non dimentichiamoci che Berlusconi andò sfilò al Family Day una settimana prima che venissero fuori le sue foto in Sardegna con le ragazze sulle ginocchia e Renzi partecipava a quel mondo lì tant'è che poi sulla stepchild adoption dovette dare la libertà di coscienza e non passò la stepchild adoption proprio perché anche nel PD c'era grande divisione perché Laminetti non l'ha candidata Salvini l'ha candidata Veltroni quindi diciamo che questo tema elettoralmente ha sempre fatto gola a molti settori della politica Laminetti, scusami ho detto Laminetti perché pensavo ancora a Berlusconi Laminetti, scusate Compro una consonante No ma invece per quanto riguarda i nostalgici del fascismo io non credo che Tajani l'abbia fatto per prendere voti perché francamente non penso che nel 2019 ci siano ancora migliaia o milioni di nostalgici semmai ci sono dei nuovi fenomeni ma quelli già votano centrodestra quindi non credo che spostino granché nell'elettorato credo che Tajani sia venuto fuori al naturale a me ha fatto un po' tenerezza e un po' tristezza vederlo proclamarsi da sempre antifascista convinto ma non esageriamo insomma io credo che fosse più sincero quando parlava alla zanzara che non quando ha dovuto fare questa retromarcia un po' precipitosa per salvarsi la poltrona in Europa avendo scoperto che certe cose che si possono dire impunemente in Italia in Europa ancora non si possono dire però francamente non credo che questo gli porterà qualche voto anche perché la destra destra ormai vota Salvini indipendentemente da quello che dice Tajani alla zanzara è così Massimo perché appunto gli veniva dal cuore come suggerisce Marco Travaglio oppure Tajani sta perseguendo una strategia per prendere voti in questo cino di nostalgia perché si è scusato, si è dovuto scusare ovviamente poi Tajani e forse l'ha fatto più per la platea europea che per quella italiana anche io non credo che sia frutto di una strategia elettorale penso però che anche questo fa parte di quel clima di vaga restaurazione che c'è cioè certe cose vengono più naturali in questo momento rispetto ad un'altra fase politica e questo vale tanto per il tema del fascismo, dell'antifascismo, del razzismo quanto per il tema dei diritti civili con una giunta è vero quello che diceva prima Marco è quello che dicevi tu cioè già Berlusconi più volte ha evocato Mussolini come uno statista che ha fatto anche cose buone questo attiene al deficit politico-culturale di questo paese che non ha mai conosciuto una destra normale conservatrice europea noi non ce l'abbiamo mai avuta non abbiamo mai fatto i conti fino in fondo col fascismo perché c'era un partito che si chiamava Movimento Sociale Italiano e poi una destra anomala quella messa in piedi da Silvio Berlusconi che tuttora è convinta in buona fede che Mussolini abbia fatto anche delle buone cose senza capire l'enormità di un'affermazione di questo genere e senza capire appunto che in questo modo mentre in Italia te la passano in Europa non te lo consentono perché? perché l'Europa invece ha conosciuto una destra conservatrice non reazionaria e non post fascista ma antifascista ricordiamo che De Gaulle tanto per dire è l'uomo che ha guidato la resistenza in Francia poi è diventato il leader dei conservatori francesi in Italia purtroppo questa dinamica non l'abbiamo conosciuta e quindi oggi Tajani può dire una stupidaggine di questo genere senza capire o meglio capendola solo dopo che enormità ha detto però è quello che pensa lo pensa davvero è la peggior retorica fascistoide quella della bonifica dell'agropontino dei treni in orario se Mussolini fosse vivo avrebbe fatto anche la TAV sicuramente stiamo tranquilli su questo Paolo Mieri ma c'è un clima di restaurazione come dice Massimo Giannini? o c'è il rischio un clima di restaurazione in generale è un momento della destra in Italia non è un momento della sinistra la quale inizia non solo in Italia peraltro certo però in Italia lo è particolarmente e il clima prodotto dall'incontro fra 5 Stelle e Lega è un clima di destra cioè non è due segni i 5 Stelle che portano quello di sinistra e la Lega a quello di destra è un clima unico quindi i 5 Stelle non riescono a distinguersi abbastanza? secondo me no secondo me io vedo un unico clima poi ci sono delle distinzioni politiche quelle che portano di consueto a un rinvio ma il clima complessivo è un clima di destra questa è una stagione che quando la vedremo all'indietro la vedremo come una stagione di destra non come una stagione di centro metà di destra metà di sinistra dopodiché che quello che ha detto Tagliani io penso che Tagliani pensasse quelle cose quando era ragazzo anzi ne pensava forse di più spinte le abbia pensate per tutta la vita e penso che ci siano molti italiani consentanei con il clima di questi giovani che pensano le stesse cose non sottovaletano prima appunto quelle sono parole che non si devono dire perché lasciamo agli storici di giudicare se l'agropontino era buono o cattivo ma è chiaro che cercare una scappatoia per un regime editoriale è cercare una scappatoia per un regime editoriale quindi non lo dovrebbe dire un politico però è anche altrettanto chiaro perché in questi anni tantissimi lo hanno detto tantissimi uomini politici ripeto, tengo fuori gli storici perché suona anticonfermista suona tutti questi tromboni che vanno in giro a avvolgersi nella bandiera del 25 aprile io te la dico non ti dico che il fascismo fu tutto buono però anche le cose buone ecco, vorrei sentire Marco Travaglio perché dissentivi da Paolo Mieli che ho visto che hai fatto a proposito mi pare di aver capito che il Movimento 5 Stelle sia in qualche modo fagocitato da questa destra di Salvini no, io non credo che la spiegazione del voto dell'anno scorso sia quella di un vento di destra io credo che quella dell'anno scorso sia stata un'area di rottura rispetto alle classi dirigenti e agli establishment esattamente lo stesso vento che aveva portato il 40% a Renzi quando sembrava ancora nuovo ogni volta che c'è un'occasione anche piccola per dare un segnale di novità in questi anni gli italiani l'hanno colta dopodiché sono rimasti delusi da Renzi e adesso vedremo se resteranno delusi anche da quelli che hanno premiato l'anno scorso ma secondo me non era una pulsione di destra era semplicemente di dire noi quelle facce non le vogliamo più vedere noi quelle politiche non le vogliamo più vedere vogliamo vedere dell'altro talmente dell'altro da affrontare addirittura il salto nel buio o il salto nel vuoto e cioè affrontare l'incognita di qualcosa che non sappiamo che cosa sarà che non è certamente la Lega che è il partito più vecchio che abbiamo ma era il 5 Stelle dopodiché adesso la partita è aperta oggi leggo che Conte ha fatto delle dichiarazioni che non mi sembrano proprio da Presidente del Consiglio di Destra a proposito di due sentenze un po' discutibili per usare un eufemismo a proposito di femminicidi e usoricidi non so se la battaglia contro il TAV sia di destra o di sinistra una volta la battaglia per uno sviluppo su piccole opere con tanta occupazione oppure su grandi opere che fanno il gioco dei grandi gruppi era una battaglia di sinistra ambientalista quindi è una partita molto aperta ma io non riesco a vedere una comunanza non riesco a vedere le due destre Salvini è la destra e si trova al governo con una cosa strana che si chiama il 5 Stelle che non è stata votata da elettori di destra tant'è che appena sono andati al governo con Salvini diciamo c'è stata una fine di un equivoco quelli che erano di destra se ne sono andati ma non è che fossero poi moltissimi tant'è che Salvini ha drenato tutta la destra oltre che una piccola parte dei 5 Stelle la vedo un po' più complicata magari Mieri voleva solo replicare poi secondo me ha perfettamente ragione Marco Travaglia e aggiungerei che fra quelli che hanno voluto voltare pagina c'erano probabilmente anche gli elettori del 94 quelli che votarono Lega e Berlusconi l'Italia è piena di voltamenti di pagina allora alcuni io quello che ho detto non è che quegli elettori fossero di destra perché l'età di Dio molti venivano dal partito democratico e noto dico che hanno prodotto un clima di destra cioè il clima che si è creato nel paese nell'anno successivo alle elezioni del 4 marzo è indiscutibilmente non è un clima da bienio rosso è un clima così come il clima che si creò dopo le elezioni del 94 fu un clima di destra quello che invece si creò dopo le elezioni vinte da Renzi fu un clima direi di centro ma non ma infatti se posso chiusare su quello che dice Paolo Mieli ecco aspetta che aggiungo anche così facciamo un passo avanti perché vorrei interpellarvi anche su Zingaretti questa sera perché siccome domenica si insedia il nuovo segretario del partito democratico allora arriva un segretario che prende in eredità un partito di sinistra di centro-sinistra fortemente indebolito e che deve inserirsi in questo clima che voi e che io penso sia più sicuramente più di destra che di sinistra quindi ce la farà? assolutamente sì il clima è più di destra aggiungo rispetto a quello che diceva Marco Travaglio che oggi l'Italia è già un po' diversa da quella del 4 di marzo è passato un anno se noi prendiamo per buoni i sondaggi dobbiamo prendere atto del fatto che in questo momento Salvini ha raddoppiato i consensi e il Movimento 5 Stelle ha perso quasi 15 punti quindi la virata di destra c'è ed è nelle cose e l'impronta di destra su questo governo Salvini la 10 punti sta al 17% beh insomma 20% 20% 12-13 12-13 quel che è punti in meno comunque insomma c'è una forte un forte arretramento del movimento no? e questo io dico purtroppo perché secondo me è un male che questo governo abbia preso un'impronta così marcatamente salviniana però è nelle cose è inutile continuare a negarlo per quello che riguarda la sinistra come ha dimostrato prima la piazza di Milano poi le primarie del partito democratico un popolo esiste c'è ancora è lì è un popolo nonostante come abbiamo scritto sul nostro giornale ha scritto Ezio Mauro nonostante tutte le sconfitte le disfatte le divisioni i veleni però c'è ancora ho l'impressione che Zingaretti se c'è una chance è l'unico che in questo momento può cercare di giocarsela per fare che cosa? non certo per vincere le prossime elezioni anche perché se si illudono ancora di poter andare avanti con la vocazione maggioritaria e mi pare che Zingaretti su questo sia molto prudente non vanno da nessuna parte centrosinistra è un campo che si ricompone soltanto se è plurale altrimenti non vanno davvero da nessuna parte però è una traversata molto lunga si vorrà molto tempo posso aggiungere una cosa tutti abbiamo salutato Zingaretti con le parole che ha usato adesso Massimo Genini adesso cominciamo a dire qualcosa di più che pure gli altri facciano la loro missione per esempio c'è un partito a sinistra del PD fate vedere prendete il 4% tutta questa banda di banda lo dico in senso affettuoso di Leo fate gli europeisti Labonino Calenda quelli che dicono che deve nascere un partito centrista or su dai fate vedere perché certo Zingaretti da solo non è che arriverà non può fare miracoli e anche il disegno auspicato da Marco Travaglio questi 5 stelle che desiderano ricongiungersi alla loro ricomporre la scissione di Livorno cioè di ricongiungersi a sinistra anche loro alzino la voce facciano vedere si facciano sentire dicano e dicano in maniera organizzata e proponendosi non una svogliatezza una battuta una cosa di fico e dove è andata a finire di Battista non lo dico polemicamente ma se no quell'incontro auspicato dal fatto fra PD e 5 stelle e ove mai il PD cambiasse opinione ma e 5 stelle si vede poco si vede qualche smorfia della Nunes o insomma Marco Travaglio io non ho mai proposto nessuna nessuna saldatura della scissione di Livorno non ho mai pensato che siano due forze omogenee pensavo l'anno scorso che fossero un po' meno disomogenee di quanto non lo siano i 5 stelle e la Lega non fosse altro perché pensavo che dopo la batosta elettorale il PD avrebbe cambiato è rimasto per un anno invernato sull'Aventino ad aspettare che i voti tornassero non ne è tornato nemmeno uno e questo governo va a gonfie vele nei sondaggi anche a causa del fatto che uno dei tre soggetti che era arrivato secondo alle elezioni politiche non ha giocato la partita questo io dicevo ma non ho mai pensato che fosse una cosa facile è chiaro che un PD che non si rinnova non può mettersi in campo con nessuno adesso ha un nuovo segretario ci ha impiegato un anno per darselo ma anche qua io non credo che ma quella partita è ancora aperta scusate chiedo solo se quella partita è ancora aperta si può riproporlo o è chiusa per sempre e fu chiusa un anno fa rapido Marco adesso la vedo adesso la vedo molto più difficile la vedo molto più difficile perché c'è un governo che ha ovviamente tutto l'interesse a durare vedremo se durerà vedremo dopo le elezioni che cosa succederà però se non cambia il centro-sinistra fa del male a se stesso e fa del male al paese perché io non credo che debba recuperare un vento di sinistra io credo che debba dare agli elettori quel segno di novità e di discontinuità che si aspettavano e che non hanno avuto in questi anni se il primo atto di Zingaretti è andare a omaggiare Chiamparino che comanda a Torino dagli anni 70 è il TAV cioè la cosa più vecchia che era già urgente 30 anni fa e che loro non hanno mai fatto facendo finta di farlo e poi la prima nomina è Zanda 76 anni in politica dagli anni 70 come tesoriere che come prima mossa chiede il ripristino del finanziamento pubblico dei partiti ma voglio dire ma che cos'è questa roba qua è roba più vecchia del PD di Bersani che Renzi pensava di avere rottamato 5 anni fa quindi diciamo che le prime mosse non mi paiono una grande discontinuità però speriamo lo vedremo ovviamente nelle prossime settimane intanto io vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché stasera abbiamo appunto parlato di clima da restaurazione clima di destra e per ragionare su nazionalismi e democrazie illiberali stanno arrivando a Roma tanti scrittori scrittori internazionali per ragionare sentiamo Paolo Pagliaro pochi secondi di curiosità con i regimi oscurantisti e con le dittature di ogni colore facciamo ottimi affari stringiamo alleanze anche militari con paesi formalmente democratici che però non garantiscono la libertà d'espressione o la separazione dei poteri e riempiono le galere di oppositori e di intellettuali scomodi democrazia illiberale dovrebbe essere uno simoro invece è un modello che Budapest e Varsavia stanno trasferendo all'interno dell'Unione Europea la libertà torna dunque a essere una questione urgente anche nei dintorni di casa nostra ed è la parola chiave della decima edizione di Libri Come la festa del libro e della lettura in corso fino a domenica all'auditorium di Roma con 280 ospiti provenienti da 15 paesi scrittori grandi e riconosciuti ma anche giovani e meritevoli di attenzione ci sono tra gli altri la filosofa ungherese Agnes Heller il romanziere americano Peter Cameron il più interessante scrittore tedesco contemporanea Uwe Thiem ci sarà forse Andrea Camilleri invitati dagli organizzatori del festival a spiegare cosa significa oggi libertà tra i confini solidi degli stati e quelli fluidi della rete ma come sempre il vero protagonista del festival è il pubblico che fa la fila per ore in attesa di partecipare agli incontri anche con scrittori non da best seller ma per il puro piacere dice il curatore del festival Marino Sinibaldi di allargare la propria mappa mentale in un momento in cui tutti gli orizzonti sembrano invece restringersi Marco Travaglio voi oggi il fatto ha debuttato in borsa come è andata? è bene è stato emozionante se penso che dieci anni fa stavamo per nascere ci domandavamo se sarebbero durati qualche mese o un anno dopo dieci anni abbiamo un gruppo multimediale con case editrice libri progetto televisivo questo gruppo si è quotato non soltanto il giornale il sito ovviamente e quindi siamo molto contenti insomma è un segno di vitalità e di forza stare sul mercato editoriale in un periodo in cui tutti dicono che bisogna scappare invece no forse bisogna insistere bisogna impegnarsi allora in bocca al lupo compreranno azioni anche Paolo Mieli vero anche Massimo Giannini sicuramente per potermi presentare in via Sant'Erasmo nella sede del fatto e dire la mia e dire no non sono convinto della linea politica del giornale va bene allora ci vediamo in assemblea ci saranno delle grane Marco Travaglio in bocca al lupo grazie Travaglio no io non vedo l'ora grazie Marco Travaglio grazie Paolo Mieli grazie Massimo Giannini vi lascio a Corrado Formiglia il suo piazza pulita tra i tanti ospiti Gino Strada Elsa Fornero Maurizio Landini Carlo Verrelli molti altri state con noi noi ci vediamo come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti